Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo a Fortnite per la schermata infinita tipo quando vai ad avviare Fortnite, c'è sempre questo caricamento infinito su Fortnite nella nuova stagione ovviamente anche Epic Games ha segnalato così questo errore e sulla sua pagina ci sono anche istruzioni per risolvere il suo problema ovviamente useremo i suoi metodi e i vecchi metodi che usavo io per risolvere il problema su Fortnite quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina come puoi vedere schermata di caricamento infinita in Fortnite per esempio se hai Windows 10 versione N è probabile che bisogna scaricare così la versione di Windows Media Pack quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato vari link che ti porteranno su queste pagine della Microsoft come puoi vedere andremo a scaricare così DirectX and User Runtime la versione più recente di Microsoft Visual C++ e poi il pacchetto di Media Pack ovviamente Windows Media Pack per le versioni di Windows 10 come puoi vedere requisiti di sistema Windows 10 tutte le edizioni Windows 10 Home N, Pro N, Education N, tutti con la N finale ovviamente questo è il problema su Windows 10 quindi in questo caso ti ho lasciato questo link scegli così l'ultima versione vai su conferma confermi così l'edizione funziona e da multimediale scarica 32 bit o 64 bit per capire che tipo di sistema hai basta che vai sull'icona di Windows sistema e lì troverai sistemi basati per 32 bit oppure 64 bit io vado a scaricare la 64 bit ovviamente non me la dà l'installazione perché io ho Windows 11 quindi non me la fa installare ovviamente il pacchetto è questo ci clicchi sopra ricerca di aggiornamenti come puoi vedere a me non me lo dà perché non può metterlo su Windows 11 quindi se non dovesse funzionare con questo metodo possiamo sempre andare su Microsoft Visual C++ e scaricare le ultime versioni di ARM 64 e per 86 e per 64 quindi vai a scaricarli tutti una volta scaricato riusciranno così sul desktop eccoli qua e noi li eseguiamo tutti accettiamo così i termini lo faccio con tutti ripristina ripristina questo qua non supporta il tipo di processore proviamo questi altri due l'installazione è completata questo è andato benissimo ed eccolo qua ovviamente poi una volta fatto ti dici di riavviare il computer ovviamente noi non andremo a riavviare il computer perché ci restano altre cose da fare quindi dobbiamo riavviarlo più tardi quindi andiamo anche a scaricare il DirectX User Runtime selezioni così la tua lingua scarica installi accettiamo il contratto non installiamo il Bing Toolbar che sarebbe un motore di ricerca facciamo avanti e lo installiamo e facciamo fine se non dovesse funzionare con tutti questi metodi possiamo sempre andare su Epic Games 3 puntini su Fortnite gestisci trattino di x11 come opzione di avvio e che diamo qua se non dovesse funzionare 3 puntini gestisci verifica i file di Fortnite se non dovesse funzionare quest'altro metodo andiamo direttamente su esegui %appdata % vai su appdata local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite 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 Game e cancella la cartella di Fortnite una volta cancellata così la cartella rifai di nuovo la verifica al gioco quindi in questo caso i metodi erano questi ed erano quelli di scaricare nuovi driver per il tuo sistema operativo quindi come ho detto se non dovesse funzionare possiamo sempre ripristinare e fare la verifica a Fortnite oppure reinstallando di nuovo Fortnite e se non riesci a a farlo funzionare dopo che l'hai reinstallato ti consiglio di disinstallare e reinstallare Epic Games quindi per altri problemi mi raccomando commenta sotto al video ci sono altre guide in alto a destra nelle schede o una playlist piena di 60 video di Fortnite come risolvere i suoi problemi riguardo al crash i sinti cheat problemi all'avvio problemi di Epic Games problemi alle schermate alla schermata nera quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo al caricamento infinito su Fortnite iscriviti lascia like mi raccomando per altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao